Siamo già in ritardo. Per colpa tua? Ma mi prendi in giro. Aspetta! Adesso smetto! Lascia il mistale! Non affordati! Tieni! Mi chiamo Emil. Spero che avremo l'occasione di conoscerci. Veramente ti chiami Emil? Cioè, i tuoi genitori ti odiano tanto? Vuoi venire da me? Profumi. Tieni! Tutto ok, Emil? Che cosa? Che mi succede? Queste mutazioni sono un fenomeno recente, complesso. Ne sappiamo ancora poco. Lo sa qualcun altro? La tua ragazza? Non è la mia ragazza. Che stai facendo? In cosa ti trasformi? Hai paura delle creature? Come ti sei sentito quando la mamma ha iniziato a cambiare? Non bisogna avere paura. Andrà tutto bene. Se ti prendo l'infinita, restarei da soli. Lo capisci? Ero! No! ARR! No! 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 Grazie a tutti